Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eccoci qua la nostra diciassettesima o diciottesima ricetta che vedete cosa fare per poter ottenere successo la scorsa volta abbiamo visto che ci sono varie varie vie varie mezzi e varie opzioni per ottenere il risultato di elargire quindi la gestione dell'islam non è soltanto il fatto di dei neri verde ma ci sono altre vie che portano ad ottenere tale risultato oggi inshallah continueremo a esaminare e a fare ancora a andare più in profondità vedere tutte queste altre opzioni che il prof. Assalam ci ha indicato per poter ottenere il risultato di elargire inshallah guardiamo subito allora si domanda sempre da Abu Dhar che il mio attore di Assalam disse al mattino vi sia un'elargizione per ogni giuntura di ognuno di voi quindi le giunture sappiamo che alhamdulillah sono numerose il prof. Assalam ci dice che dobbiamo fare un'elargizione al mattino dobbiamo fare un'elargizione per ogni giuntura che c'è in ognuno di voi e non è cosa facile uno dice alhamdulillah sono tante come facciamo a fare queste elargizioni qua in un giorno o da lavorare o da fare questo o da fare quell'altro com'è? quasi impossibile però se non abbiamo detto ci danno la verifica ci danno la risposta ci danno la risposta leggiamo qual è la risposta qual è il risultato per per risolvere questo dilemma qua ecco la risposta l'altro prof. Assalam ci dice ogni esaltazione della trascendenza divina quindi subhanallah si è esaltato allah subhanu ta'ala è un'elargizione ogni lode ad allah quindi alhamdulillah si è lode ad allah è un'elargizione quindi abbiamo già subhanallah 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 un'elargizione alhamdulillah 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 e fin l'elargizione che fai? finito qua? no andiamo avanti ogni attestazione dell'unità divina quindi ta'li l'ailailallah l'ailailallah è un'elargizione e poi continua invece dice ogni affermazione della superiore grandezza di allah allahu akbar allahu akbar è un'elargizione ogni allah è grande allahu akbar è un'elargizione allah subhanallah l'agizione alhamdulillah è un'elargizione allahu akbar è un'elargizione Ci dice, come è un'elargizione ordinare ciò che è riconosciuto come bene della religione e dell'intelletto Ed è un'elargizione vietare ciò che è riconosciuto della religione e dell'intelletto Ma, ci dice, sapete cos'è meglio di tutto questo? Sapete cos'è meglio di tutto questo qua che vi abbiamo detto? Dice, due l'ha che si compie a mattino inoltrato Basta al posto di tutto questo Quindi, due l'ha che si compie a mattino Basta, basta al posto di tutto questo Insha'Allah, due l'ha che si compie a mattino Fajr, dopo le due sunne prima del Fajr Dobbiamo tenercelo a mente Fai i due l'ha che si compie a mattino Fai anche il Fajr Quindi la preghiera, come dire là, è molto meglio di tutto questo qua Però, qual è? Qual è? Qual è? Sono le due l'ha che prima del Fajr Sono le prime due l'ha del Fajr O almeno, questa qua è la conoscenza che abbiamo noi Quindi, insha'Allah Se hai già fatto quello lì e vuoi continuare a fare un'elargizione Sai già che fare Subhanallah, Alhamdulillah, Allah, 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 Allah E' un'elargizione Insha'Allah, se siete fattenuti a il trove Bismillah, iniziamo subito E se già questa prima fatica vi è piaciuto Vi chiediamo soltanto di lasciare un like E di iscrivervi al canale Se vi piace Quindi, siamo stati venuti a il trove ancora Quindi, vedete E, Bismillah, iniziamo Bismillah, wassalatu wassalamu al-salamu 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 al una nuova surah, quando iniziamo a recitare una nuova surah, dobbiamo sempre iniziare con la Besmellah, con la Besmellah, la Besmellah abbiamo visto che era la prima, la prima ayah del Salat al-Fatihah, il Salat al-Fatihah, ok, quindi la sappiamo già, sappiamo già come va recitata, come va letta, l'abbiamo già analizzata, Bismillah yurrahman yurrahim, quindi sappiamo già, alhamdulillah, ora passiamo alla prima ayah del Salat al-Fatihah, la prima il Salat al-Fatihah, qua abbiamo il Kof, che dobbiamo riconoscere tutti quanti, ok, perché c'è due puntini sopra, due puntini sopra, è scritto in questa maniera qua, come la Fa, però la Fa, c'è un puntino sopra, invece questo qua ne ha due, perciò è la Kof, qua abbiamo la Dhamma, la Dhamma, quindi diventa Ku, Ku, Kofodumma, Ku, Lem, questo qua è Lem, non dobbiamo sbagliarci, è l'unica, o se mi dice, ok, posso confondere con la Kef, la Kef già è il Hamza, tipo il Hamza lì, dentro, il Kef, il Kef, ok, se dovessi essere scritto in questa maniera qua, ci sarebbe il Hamza dentro, ok, ora abbiamo Kefodumma, Qofodumma, Ku, Lem, abbiamo Mascul, Qul, 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 qua abbiamo Hamza, Hamza tofata, A, Hamza tofata, A, Aynu, Aynu, Duma, U, Aynu, non conoscerlo, nella famiglia, Aynu e Ghaynu, Aynu e Ghaynu, no? Ok, Ghaynu, c'è il puntino sopra, abbiamo, questo qua è motivo anche per cui facciamo questi esercizi qua, per poter sapere conoscere gli alfabeti in maniera veloce, liscia, senza stare lì a pensarci tanto, quindi quando sai riconoscere gli alfabeti sei già, qua nella, sei già il 60% di, del tutto, perché quello lì è più difficile, saper riconoscere questa forma di scrittura qua, a che alfabeto corrisponde, mi simila, poi dopo l'altra è sapere le vocali, lì sei già un buon passo, poi l'altra è sapere le regole dei tagguiti che abbiamo già fatto nella sua serie dedicata, abbiamo Aynu, Aynu, Duma, U, Waw Maskun, U, Waw Maskun, U, quindi abbiamo, A, U, A, U, A, U, quindi abbiamo, Kul, A, U, Kul, A, U, Kul, A, U, qua abbiamo, Z, 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 U, U, Duma, Dhu, Z, U, A, U, Dhu, A, U, Dhu, Kul, A, U, Dhu, ok? Qua abbiamo, Bau, Bau a Kisra, B, Bau a Kisra, B, perché Bau, potete vedere, c'è il puntino sotto, visto come qua c'è il puntino sotto, il T, c'è due puntini sopra, eh? Il T, c'è due puntini sopra la fa c'ha tre puntini sopra qua è l'unica famiglia che c'ha un puntino che c'ha il puntino sotto ba 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 o chisra bi rau fata ro rau fata ro abbiamo birra 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 ba o chisra bi ba o chisra bi rabbi 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 bi rabbi bi rabbi bi rabbi ok bi rabbi qua sappiamo già come comportarci l'abbiamo visto chi è Hamza Tawassal ok dobbiamo pronunciarlo sì o no no sapete già la risposta quindi cosa dobbiamo fare c'è l'oscuno sul lemm c'è l'oscuno sul lemm quindi il lemm va pronunciato quindi abbiamo bil 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 quindi questo ba lo leghiamo a lemm bil bil bi rabbi bi rabbi bi rabbi fa o fata fa fa o fata fa fa o fata fa lemm o fata la lemm o fata la fa la fa la fa la fa la fa o quo e istra bi essendo l'ultima lettera che chiude e la parola non si pronuncia la vocale e la si rende silente fo la qo fa lo co fa loco fa loco e co è una delle lettere del kol 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 quindi essendo anche l'ultima è la terza la terza fase del colcolo dove bisogna renderla forte quindi fallo fallo iniziando un bilasto un invisto a avuto a avuto a avuto be bairabbi'h bir a b billing vera bill is better vista battle a defence la generale The real of that help with salary tab last summer and on fat alpha falla off follow 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 like Qul a'udhu bi rabbi il faluq Qul a'udhu bi rabbi il faluq Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbi il faluq Guardate, guardiamo anche la seconda, guardiamo anche la seconda Abbiamo Mimu a Kisra, Mi Mimu a Kisra, Mi Nunu, qua abbiamo Nunu Vedete, perché non c'è l'oscuna? Come quella col nasa Quindi cosa bisogna fare, è una delle lettere, è uno, qua bisogna applicare la regola Ich fa, ich fa sopprimito, sopprimito, bisogna sopprimere il suono del nun sakina, nun tanwin Sono le regole del tanwin e nun sakina Perciò si fa il sopprimito e la si collega alla shi Il sopprimito la si fa con la gunna, con la gunna Quindi invece di leggerlo Min, Min, Min Poi è proprio dire shi Min, 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 sha, min, sha Come si fa? Si fa il sopprimito Min, sha, min, sha, ich fa, ich fa Min, sha, ok? Questo qua è shi Non c'è, ma c'è altri puntini Però avete visto? La forma di scrittura di questo è diversa da questo Qua, la tre novecce, l'abbiamo visto, sappiamo Quando hai gli stessi puntini, è la sin In questo caso qua, tre puntini Shin, shin, ok? Min, sha, min, sha Rau, rau, shalat, wa kisra, ri, shalri Rau, shalat, wa kisra, ri, shalri, shalri Min, sha, ri, min, sha, ri Min, sha, ri, mai, mi, sha, ri, mai Ok? Qua abbiamo Khof, khof, un fatta kho Khof, un fatta kho L'abbiamo fatta la Khole, khole, khole Khof, un fatta kho Però, essendo, sappiamo Quindi come does not comportarsi e perciò diventa facendo il sopprimito sopprimiamo il suono del Nusakina con la cuna andiamo dall'inizio ok leggiamolo con il tajwid che abbiamo appena analizzato redendo la voce bella bismillahirrahmanirrahim qul'a'udhu bi rabbi il faluq min sharri ma khaluq bismillahirrahmanirrahim qul'a'udhu bi rabbi il faluq min sharri ma khaluq ok alhamdulillah per oggi siamo arrivati a questo punto qua la seconda aya ci fermiamo qua alhamdulillah eh può bastare miscallah vi invito ancora un'altra volta c'è la prima volta che incontrate questo canale qua questo qua è quello che facciamo analizziamo siamo arrivati alla serie dove iniziamo ad analizzare eh ogni aya l'aia del corano fino anche a completare l'intera osura quindi se questa roba qua che avete visto vi è piaciuta iscrivetevi attivate la campanellina così quando pubblichiamo qualcosa siete i primi eh ad avere la notifica e poi se quello che avete visto oggi vi è piaciuto lasciate pure un like condividetelo con tutti coloro che possiate eh che crediate possa essere di beneficio come ben sapete quando condividete qualcosa di bene avete il beneficio la buona opera quindi inshallah facete questa conoscenza qua e miglioriamoci la vicenda lai sacca musa chios aspettandovi alla prossima volta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh